Ragazzuoli fantastici, benvenuti nell'episodio 7 di Rise of the Tomb Raider Continuiamo da dove ci siamo lasciati, abbiamo trovato praticamente un arco Ok, abbiamo trovato un arco che ci permette di arrampicarci su queste sporgenze qui Vedete dove ci sono queste sporgenze? Praticamente spariamo una freccia abbastanza robusta da poterci salire sopra ed ondularci Dobbiamo andare a recuperare il nostro Alfredo, che l'ha preso a 30 nell'episodio precedente Un'azione, pure il suo profune, non abbiamo paura di niente Adesso, nell'episodio precedente abbiamo pure scoperto gli immortali, c'è praticamente nelle tribù Allora, io ne farei uno qua e uno qua Perfetto, vediamo se funziona Ok Andiamo avanti Perfetto, possiamo proseguire da qua Minchia, qua dove siamo? Questo è l'emporio, ragazzi Siamo ritornati praticamente in questa zona, questa è l'emporio dove abbiamo preso il nostro silenzio Devi start emoto, Gerardo Allora, questo cos'è? Il risalitore? Ti consegni di risalire velocemente sulle corte Prendo il risalitore, nuova attrezzatura ottene Che si, ha già capito cosa serve Non so perché qua congelo, fuori no Ma vabbè Fucile pesante basculante Attenzione Uno zaino, qua scopriamo delle indicazioni segrete Stiamo congelando, ragazzi Non avrei mai dovuto dubitare di te Non ero al tuo fianco quando avevi bisogno Mi dispiace Dimostrerò a tutti Che hai sempre avuto ragione Che cercavi la verità Che non erano favole Sistemerò le cose, papà Te lo prometto Lara È ora Jonathan aspetta Eh, butta Jonah Grazie a questo ricordo del passato ci siamo ricordati Dobbiamo andare a prendere il nostro Alfredo Vabbè, andiamo avanti Allora, qui c'è il rampino Mi ricordo che si attirava Ecco, stavo per premere spazi Allora, dove cazzo siamo Ti attendiamo malissimo No, no, mamma mia Poi ne le piaccio Non so, da qualche parte Straordinario La sorgente divina È nel centro della città vecchia Sepolta sotto il ghiaccio Quindi dobbiamo andare Informerò la squadra di scavo E preparerò i trasporti I nostri hanno incontrato gli immortali negli archivi Non sarà facile, fratello Il sacro cammino è impervio e accidentato Gli uomini sanno a cosa vanno incontro No Ma sono pronti a combattere e morire per la causa È ciò che ci serve da loro Constantine Ora che siamo vicini alla fine Abbiamo appena iniziato Temo che la Trinità ci stia usando Se non ti lasciassero tenere la sorgente Dovremmo essere proprio No Devi avere fede Non è la Trinità che mi ha scelto Cosa pazzo Pierpaolo? Quando la sorgente sarà mia Non conteranno più nulla Guiderò l'esercito immortale di Dio E tu? Tu vivrai Beh, comunque è chiaro che lei sia malata Constantine Prigioniero sveglio e pronto per l'interrogatorio Prigioniero, stanno interrogando Alfredo Bastardo Dai Alfredo, non ti preoccupare Stiamo arrivando Putta me Cazzo, quasi quasi mi fai pena Lo devo pur mangiare, quindi Beh Addio È solo due persone Non ho modo di distrarle Quindi dovremmo fare due aspetti veloci Una stenzione, una stenzione La croft potrebbe cercare di salvare il prigioniero Il comando ha richiesto la massima alletta Perché non lo ammazza? Potrebbe重要 Sono un brigoglio è uno dei nostri sparate a vista guardate a vista un paio di cazzo ma non per i coglioni vai via proviamo le bottiglie per il frontino penso non l'avevo visto penso si hanno finito buttiamo tutto il lootabile noi stiamo prendendo un mare di potenzialmente spero di potenziarmi come un torco ok posso arrampicarmi da qui con le frecce fammi dare una rapida occhiata da questo lato per vedere se c'è qualcosa che magari dimentica in teoria c'è un altro perfetto perfetto vediamo tutto in modo molto furtivo nessuno ci sta sganando no cazzo mi ha agganciato sempre quello cosa cazzo stiamo facendo? attenzione dei pro player dei pro player un paio di cazze sì 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 un paio di cazzo una leggera potenziata vi aggiorno dopo sul cosa faccio ok niente di particolare abbiamo potenziato cadenza e danni al pompa e ci siamo messi un'abilità che ci permette di resistere ai danni da caduta premendo C attenzione perché sotto il ghiaccio vado congelata l'aria è completamente persa mi auguro che non mi hanno chiamato penso sì no no non avevo in pompa invece erano solo due no non erano solo due eh ci sta ci sta un po' di azione tattica Ossamo nella meta porca p***a raga se ce la siamo visti male M*****a io credi che erano solo due 2.000 qua era, era un esercito dietro sto camion qua, lo spazzaneve. Allora, trovare la trinità, entra nella stazione meteorologica, quindi questa qui è una stazione meteorologica, va bene. Andiamo a trovare il nostro bonzuardo, attenzione, una scatoletta magica. Se esamiviamo gli oggetti possiamo vedere addirittura altre informazioni, vedi se io non giravo quel ciondolo per Lara era un ciondolo. Siamo dentro, cerca la stazione meteorologica. Ma io continuerò a provare. Senti bruschi da parte della trinità, ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, dobbiamo andare avanti. C'è l'Atlante. Ora sto iniziando a stancarti, arrenditi alla volontà di Dio. Se stai per iniziare con la predica. Alfredo! Basta! Entra negli edifici della prigione, salviamo il nostro Alfredo. Non ce lo merita, non ce lo merita! Cazzo. Poiati dei coglioni, dov'è il mio Alfredo? Porca puttana. Ci arrendiamo. Siamo volando. Oddio. No, no. Ah, certo che la fortività non è. Babbè. Porca puttana. No, no, no. Mamma mia, pensavo di essere morto. Ok, l'acqua sarà caldissima da dentro, immagino. Ok. Ok. Pregati dai coglioni. Oh, no, no, no. Ok, non era, non era quello il piano, dovevo saltare sulla corda. Ok. Ok. In 0,3 seconde abbiamo raggiunto penso la prigione. Ho pure trovato le chiavi. La tua lealtà nei suoi confronti è forte. Ti ammiro. Davvero. Ma anche la mia pazienza ha un limite. Dimmi quello che sai. Ora! So. Fallo! Ti prego, ti prego, no. Non ascoltarlo! Stavo solo facendo quello che ritenevo giusto. No! Porca puttana Alfredo, sei un coglione! Rastrellate le celle. Uccideteli tutti. Dio mio, l'aranciaio è un cazzo di fucile a pompa e vai di estristore. Proprio stronza. Io, mi dispiace, avrei dovuto ucciderlo. Ma era disarmato, non potevo. Shh, non dovevi farlo. Mi dispiace, averti trascinato in questo casino. Pensavo di starti dietro. Siamo circondati. Questa volta ti proteggo io. Sta morendo. Non ci resta molto tempo. Cazzo. Mamma mia, raga. I brividi, i brividi. La nostra Lara sarà incazzata, River. Vaffan, tu lo dovevo fare, eh? Vaffan, tu lo dovevo fare, eh? Facciamo fuori. Facciamo... Allora, andiamo giù, giù, pesante, raga. Non cazzo di faro. Oh, cazzo. Vai, Lara. Vai, Lara. Non farmi preoccupare, Lara. Allora, tutto. Non so ciò che si muove. Era di dei colgioni. Vediamo le medicina, gassi. Siamo un po' coppi, e subito che lo danno loro, ragazzi. Sono un po' lacrimonti, ma forse è un bombardamento. Presenza confermata. Pronti ad attaccare. Raccamuto, attaccare. Vai, Lara. Mamma mia, Lara. Non muore mai. Sono circondata. Devo fare molta attenzione. Allora, tutti le identità in cazzo. Non ho visto. Se usciamo da quest'altro lato, dovremmo riuscire ad avere una visuale migliore. Allora, vabbè. Vediamo se usciamo da qua. Magari le prendiamo di sorpresa. Stanno andando tra le famiglie. Mamma mia, raga. E qual era l'ultimo? La puttana, raga. Devo tornare da Gianna. Difficile, va. Difficile qua. Oddio, no. Giona. Giona. Lara. Sono qui. Lara. Ascoltami. Cerca di non muoverti. Se... Se non dovessi farcela. Non dirlo neanche per scherzo. No, ascoltami. Non puoi darti sempre la colpa. Tutti noi facciamole le nostre scelte. No, cazzo. Alfredo ci abbandona. No. Non può morire. Possiamo aiutarlo? Come? Dobbiamo portarlo all'osservatorio da Jacob. Jacob. Ah, Jacob. No, se c'è il nostro Jacob. No. No. Ora solo Jacob può salvare Giona. Dobbiamo riportarla all'osservatorio. Cazzo, è acqua santa. Il signore è il tuo custode. La tua ombra sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il signore custodirà la tua anima da ogni male. Ti custodirà quando esci e quando entri. Da ora e per sempre. Ma che cazzo? Premi forte sulla ferita. Preparalo. Lui è lui è il profeta. È riferito. Tu sei lui. Non è vero. Il profeta immortale. Provo dolore. Posso essere ferito. Sono umano. Tranne che per la morte. È la sorgente divina. Qualcosa che ho trovato tempo fa. è reale. È molto potente. Ma non è divina. Quindi hai mentito a tutti. Per generazioni. Me ne vergogno. Ma l'ho fatto per proteggerli. Una volta ho usato la sorgente per dare lunga vita al mio esercito. Ma è stato un tremendo errore. L'immortale. Quelli che ho visto nell'archivio. Quando i nemici attaccarono Kittesh gli immortali fecero cadere sulla città il ghiaccio della montagna. Migliaia di persone morirono. Commisero un'atrocità per conservare il potere. E così farà la Trinità. Ma su una scala molto più ampia. Questo non sei tu. L'uomo che ho conosciuto non farebbe mai del male al suo popolo. Ma non vedi. Tutto questo è opera mia. E deve arrivare a una conclusione. Padre. Si stanno muovendo. Mamma mia raga. Che cazzo si è scoperto? Si faranno strada nel ghiaccio con la forza. Allora abbiamo già perso. No. Ci sarà un modo per fermarli. Jacob, sulla mappa era assegnato un'entrata segreta alla città. Il sentiero degli immortali è troppo pericoloso. Non abbiamo più molto tempo. Sai che non posso arrendermi ora. Se rallentiamo la Trinità potremmo avere una chance. Raggruppo le nostre forze e li attacchiamo sul ghiaccio. Allora andiamo. Apri la strada. No. Quando sei pronta l'entrata si trova sotto l'osservatorio. Io farò il possibile per il tuo amico. grande Jacob ma che gioco? Mamma mia che storia. Ve l'avevo detto ragazzi che aveva una storia fantastica. Allora io andrei di mitraglietta perché comunque gli immortali li abbiamo conosciuti nell'episodio precedente ed erano un'amiche. Tuttavia c'erano impossibili da fare non li abbiamo manco combattuti li abbiamo soltanto visti e siamo scappati. Detto questo ci salutiamo però perché continueremo nell'episodio 8. Bene mio io vi mando un salutone noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao bene mio.